Nuovo centro medico e fisioterapico PAS, ci prendiamo cura di te e della tua salute. Una cooperativa sociale che promuove uno spazio di 600 metri quadri, le tre porte, cibo, turismo, cultura, dove trovare tutti i prodotti di eccellenza del territorio da comprare, dove avere una proposta di ristorazione attraverso l'Osteria Reati di Gola con Cucina Vista e tra l'altro che ha coinvolto dei giovani cuochi che vengono dall'alberghiero, dove avere la birreria, la caffetteria, quindi degli spazi di convivialità sempre incentrati alla promozione dei prodotti della provincia di Rieti. Abbiamo valorizzato un gioiello che c'è nel centro storico, questa era la cereria della città. Quando l'abbiamo vista abbiamo detto che dobbiamo unire l'idea di un progetto che nasce da un bisogno dei produttori, di trovare degli spazi di valorizzazione e di promuovere il paniere dei prodotti della provincia di Rieti, che sono tanti, sono buoni, che partono dal burro prodotto localmente fino all'agenziana per il dopo cena, quindi ne abbiamo tantissimi. E quindi da questo bisogno di poterci mettere a disposizione un concetto di impresa sociale, perché parte dal riconoscimento di un prezzo giusto ai produttori, al fatto anche che comunque uno spazio di questo genere poteva essere il luogo adatto perché è in centro storico, perché in centro storico se si è motivati si riesce ad arrivare anche se non si riesce a parcheggiare proprio vicino vicino e su questo anche daremo una mano perché accompagneremo con la spesa alle differenti macchine, dove stare insieme e soprattutto avere un'opportunità di conoscere tutto. E qui faremo promozione anche di tutto ciò che fanno le attività turistiche, tutto ciò che fanno anche gli altri ristoranti che cucinano bene e che quindi promuovono cultura e man mano aggregando le energie di tutti coloro che vorranno trovarla come una casa, uno spazio a loro disposizione. Un forte segnale già per il fatto che si apre un'attività e anche un'attività legata ai prodotti tipici locali, a una filiera quindi che mette insieme i produttori, non è solamente un'attività commerciale, è un'attività che riunisce i produttori locali e che vuole fare anche un centro di socializzazione e di informazione su tutte le bellezze del nostro territorio. E' un evento eccezionale a mio avviso e coraggioso soprattutto per il momento, perché stiamo assistendo a uno spopolamento in questo momento del centro storico dovuto alle ultime vicende che purtroppo hanno colpito il centro Italia. Io ritengo che l'apertura di un'attività oggi nel centro storico di Rieti sia un fatto importante che debba essere anche di monito a tutte le attività produttive, a tutti i residenti del centro storico per dire dobbiamo restarci, dobbiamo far sì che il nostro centro storico sia sicuro, dobbiamo metterlo in sicurezza ma non possiamo lasciarlo. Si può e si deve fare rete, è straordinario il fatto che queste aziende si siano incontrate, si siano messe insieme, abbiamo deciso di cooperare, abbiamo deciso di aprire un punto qui all'interno della città di Rieti in Via della Verdura, quindi si può e si deve. Da sindaco di Cittareale ovviamente c'è anche il piacere del fatto che la birra alta quota, una delle nostre aziende, è presente qui insomma in questa splendida realtà che oggi inauguriamo.